Noi quello che vogliamo sono i nostri soldi, perché noi abbiamo pagato con i soldi e i soldi li vogliamo. Le famiglie e gli studenti sono esasperati, chiedono a gran voce il rimborso del proprio abbonamento ad Adribus per i mesi di fermo e chiusura delle scuole a causa dell'emergenza sanitaria del Covid-19. Il gruppo, formato da circa 54 famiglie della provincia, chiedono espressamente di essere rimborsati senza voucher messi a disposizione dall'azienda per il ristoro dell'abbonamento non utilizzato per il trasporto scolastico dei propri figli. Adribus di fatto ha predisposto questa modalità attraverso l'erogazione dei voucher spendibili dagli utenti secondo l'articolo 215 del decreto legge e si avrà tempo fino al 31 luglio per inoltrare la domanda. I genitori si mostrano contrari e presi in giro dall'azienda dopo aver investito soldi in abbonamenti annuali. Chi ha fatto il quinto anno con un voucher usufruibile per un prossimo abbonamento sinceramente non ci fa niente, non ci fa. Le corriere non sono passate, i ragazzi non sono andati a scuola, tre mesi loro le corriere penso che non l'hanno pagata e l'hanno tenuta ferma e per cui noi rivolgiamo i soldi. Soprattutto i ragazzi che hanno fatto il quinto anno e che il prossimo anno non vanno a scuola con un voucher nominativo che non posso usare nemmeno per un altro della famiglia. Io non ci faccio assolutamente niente, questo non è approfittarsi, questo è secondo me se lo posso dire è rubare. Quanto è costato l'abbonamento? Io ho pagato 487 euro. Io ho quasi 600 euro pagato, per cui tre mesi di abbonamento non so quanti sono ma sono una bella cifra. Che per genitori che hanno fatto un sacrificio per fare questo abbonamento annuale, senza contare che qualcuno ha perso anche il lavoro durante il Covid, penso che sia giusto, anzi sia un nostro diritto di avere i soldi indietro. Forse un voucher spendibile in altre cose è un conto, ma che io ho un voucher che posso spendere solo con prodotti adriabus non mi sembra assolutamente giusto.